Una notizia abbastanza sorprendente è sapere che un giovane su due, più o meno, che risiede a Torino, vorrebbe trasferirsi, cambiare destinazione. Questo è il risultato di un sondaggio basato su interviste ad oltre 530 giovani torinesi che hanno tra i 15 e i 34 anni. Molti di loro sono già sul punto di farlo. Questo disarmante risultato arriva da uno studio dei think tank Omnia Torino, realizzato proprio per chiedere all'amministrazione pubblica di ascoltare maggiormente la voce dei giovani. Lo stesso gruppo Omnia è formato da giovani che hanno meno di 30 anni. I motivi segnalati che spingerebbero quindi i ragazzi ad abbandonare il capoluogo piemontese sono soprattutto di tipo ambientale. La maggior parte è preoccupato per la qualità dell'aria, per la condizione delle verde e poi anche per il degrado generale e la scarsa sicurezza. Il 21% lamenta la mancanza di aree dedicate allo sport, mentre l'8% dichiara di non avere parchi vicini alla propria abitazione. Uno dei motivi principali che viene rilevato come negativo è quello che riguarda i trasporti, visto che l'80% dei ragazzi considera i collegamenti, i mezzi di trasporto non sufficienti. E inoltre solo il 43% dei giovani ritiene di poter trovare lavoro con facilità. Una speranza che poi scende di almeno un altro 50%, arriva al 23%, quando si tratta di aprire un'attività imprenditoriale. Oltre ai problemi ci sono anche le cose positive che offre la città di Torino. Per esempio l'offerta culturale, intesa come mostre, musica dal vivo e biblioteche. Da questo punto di vista tutto sembra essere migliore. I giovani hanno espresso un parere positivo, oltre il 60%, ma tale giudizio risulta negativo quando invece si va nel dettaglio del singolo quartiere.